Ah ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo video, io sono Alessia Izzucorra con un nuovo video Il video di oggi sarà un video back to school e credo questo sia proprio l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo prima dell'inizio della scuola, poi dipende anche da quando lo iniziate, però diciamo dal mio rientro a scuola questo è l'ultimo. Poi settimana prossima ci saranno altri due video back to school e poi basta che sono video che devo registrare il primo giorno di scuola quindi ovviamente non ve lo posso postare prima quindi se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun video così che non vi perdete gli ultimi video back to school e comunque tutti gli altri video che posto e vi ricordo a tutta la gente nuova, visto che sempre sui back to school ci sono sempre facce nuove ricordo che i video li posto tutti lunedì, mercoledì e venerdì alle 2 del pomeriggio e questi giorni per ora non cambieranno allora oggi appunto come avete detto dal titolo il video sarà sul mio metodo di studio quindi vi spiegherò come ho fatto sempre praticamente io a studiare, prendere appunti, fare schemi eccetera prima cosa allora io lo dico sempre perché così capite visto che c'è tanta gente nuova come ho detto nei video back to school io andrò in primo liceo, scusate i miei capelli bagnati ma è che oggi non ho avuto tempo per registrare prima quindi ho appena fatto la doccia non mi sono nemmeno asciugato i capelli e ho dovuto registrare perché sennò proprio ciao io quest'anno farò il primo anno di liceo, farò il liceo linguistico e nella mia scuola noi possiamo portare solamente un quaderno ad anelli visto che gli zaini saranno lasciati fuori perché appunto avendo messo i banchi staccati eccetera non c'è troppissimo spazio per gli zaini e cose varie sarebbe proprio un casino quindi hanno deciso di metterli tutti fuori e per comodità dobbiamo portare solamente un quaderno ad anelli io invece di portare un quaderno ad anelli porterò un portalistini, questo qua è uno nero normalissimo non mi ricordo nemmeno dove l'ho preso con dentro dei fogli, mi manca da comprare, avevo già i fogli a righe e proprio lisci senza niente devo comprarmi quelli a quadretti perché l'ho saputo oggi questa cosa, però vabbè dettagli e praticamente io in questi fogli ci prenderò appunti e poi quando arrivo a casa trascrivo tutte le cose nei miei quaderni separati perché ogni materia ha un quaderno suo allora quindi questa è la prima parte, sì io nel mio metodo di studio includo sempre gli appunti visto che qualsiasi materia sia che io possa prendere appunti o no scrivo sempre qualcosa perché mi aiuta a mantenere la concentrazione perché io tutte le volte che non prendo appunti non mi ricordo niente della lezione perché non sto proprio a sentire, nel senso che se io non mi tengo impegnata a fare qualcosa che riguardi la lezione io proprio guardo, ho la testa di qua, di là, improponibile quindi se non scrivo, se a volte capita, perché ci sono dei giorni in cui di prendere appunti proprio non ne ho la minima voglia poi seconda cosa, lo faccio praticamente sempre perché comunque a parte appunto i giorni in cui sono troppo stanca eccetera perché praticamente a me aiuta tantissimo anche quando arrivo a casa nel senso che io sono una persona che fa i compiti il giorno che li danno, se riesco poi vabbè ovviamente se per fare quei compiti che mi hanno dato in quel giorno ho un mese di tempo ovviamente mi organizzo per fare quei compiti entro questo mese di tempo però diciamo, in genere faccio sempre i compiti il giorno che li danno quindi io torno a casa e gli appunti li riscrivo subito sul quaderno anche se il giorno dopo poi non devo studiare o non devo fare niente per quella materia perché mi aiuta tantissimo, perché ancora sono fresca, ancora me le ricordo le cose che la prof ha detto quindi magari, che ne so, ho tralasciato qualche punto oppure magari appunti sono un po' incasinati perché in quel momento la prof stava parlando troppo veloce e quindi ti hai preso gli appunti così a caso succede perché a volte io scrivo solamente una parola che poi mi ricorda la frase intera però certo, se io arrivo a casa e quella frase intera me la scrivo nel quaderno non me la scordo però se io arrivo il giorno prima dell'interrogazione, dopo che sono passati 5 giorni dalla spiegazione io non mi ricordo più che frase era, quindi è tutto un casino perché non capisco nemmeno io i miei appunti quindi per evitare questo io scrivo, trascrivo sempre gli appunti il giorno in cui li danno questo anche prima quando non c'era tutta sta roba del covid eccetera non dovevamo fare niente, sono sempre stata una persona che faceva tipo le cose in un foglio così a casissimo e poi arrivavo a casa e le riscrivo perché riscrivere mi aiuta a studiare nel senso che io una volta che ho riscritto i miei appunti gli do una letta e poi praticamente so tutto perché ovviamente scrivendo io mi ricordo le cose quindi così, gli appunti sono super fondamentali per me un'altra cosa super fondamentale nel mio metodo di studio sono i colori allora, io veramente impazzisco per i colori nel senso che se io non riesco proprio ad avere uno schema tutto quanto nero perché io uso la penna nera tutto quanto in penna nera così c'è tipo tristissimo e anche perché non ci riuscirei a studiare perché io ho una memoria molto visiva nel senso che se io associo ogni colore a qualche materia e quindi dico, cioè, vabbè, è un po' complicato però se avete la memoria visiva come me vi dico il mio color code ovvero ogni materia ha un suo colore poi ovviamente ci sono delle materie che sono collegate e quindi ho messo lo stesso colore per tutte io queste materie qua ho già fatto il color code per tutti gli anni nel senso che ovviamente poi magari le cambio però diciamo ci sono materie che io non farò quest'anno ma inizierò a fare dal terzo anno quindi vabbè, però comunque le ho incluse perché sennò non mi organizzavo molto bene con i colori allora abbiamo rosso per storia dell'arte arancioni per spagnolo, francese e inglese, ovvero le lingue blu per fisica e filosofia viola per storia, rosa geografia grigio, latino e italiano e verde, matematica e scienze questo è il mio color code quindi i quaderni delle rispettive materie sono di quel colore se non avete visto l'all ve lo lascio qua perché appunto andatelo a vedere così vedete tutti quanti i miei quaderni tutte le robe che ho comprato eccetera e ogni quaderno ha la sua materia e ogni quaderno ha il suo colore così mi organizzo un po' meglio arriviamo alla parte di come faccio gli schemi io vi prendo un quaderno dell'anno scorso questo qua è quello di storia e vi faccio vedere più o meno come appunto facevo gli schemi vi metterò un video un po' meglio nel senso mentre parlo vi appariranno delle immagini dei miei schemi così che capite un po' meglio perché sennò veramente non si capisce niente allora innanzitutto faccio il titolo in lettering questo sempre perché mi piace e per fare il lettering utilizzo le brush pen ovviamente che sono le penne con la punta a pennello vi faccio vedere questo qua ho già fatto un tutorial un po' di tempo fa su come faccio appunto il lettering ve lo lascio qua nelle idee delle informazioni se volete appunto andarlo a vedere così che appunto potete praticare e ok queste brush pen qua sono della marca Tomaxis ve la lascio scritta qua non mi sta facendo pubblicità niente solamente che mi chiedete sempre che brush pen uso l'ho cercata solamente su Amazon e mi sono apparse queste era un kit mi pare con 24 colori ho fatto prendiamo e ovviamente come potete vedere tutto del rispettivo colore della materia l'anno scorso il blu era quello di storia quindi vabbè i colori sono un po' sfalsati non sono gli stessi di quest'anno però vabbè pace come potete vedere ci sono abbastanza frecce però nelle materie un po' più discorsive come storie eccetera cerco di fare più anche a riassunto cioè un riassunto schema più o meno però comunque ci sono molte frecce le parole che devo distaccare le scrivo con una penna colorata delle cose che magari sono importanti ma manco troppo o delle curiosità le metto nei post-it evidenzio anche molte cose cioè comunque io si uso un colore oddio ho dato una botta al microfono giustamente uso solo un colore per ogni materia però comunque io ho tante tonalità di quel colore diciamo che tra azzurro e rosa non so quante tonalità ho di penne tutto quanto quindi proprio vabbè e quindi così che rimane un po' più tutto anche colorato eccetera e non rimane monotono e a me piace così io raga ci metto veramente pochissimo perché mi viene normale ormai farlo quindi ci metto veramente massimo 15 minuti ah un'altra cosa che mi sono scordata di dire è che io prima di ricopiare gli appunti questo me lo sono scordata di dire però è molto importante quindi ve lo dico un'altra cosa che faccio è evidenziare le pagine del libro ovviamente se ci sono se ci sono argomenti tipo c'è capitato già negli altri anni magari la prof alla prof non piaceva molto come il libro trattava quello specifico argomento quindi ci dava alcune schede appunti eccetera quindi in quel caso non avrei potuto evidenziare dal libro perché lì appunto non era quello che voleva sapere la prof però nel caso ci sia l'argomento oppure vi danno le pagine da studiare tipo studiate da pagina 400 a 450 capito così io mi metto lì evidenzio tutte le cose che secondo me vanno evidenziate non vi dirò che faccio chissà quante letture perché io già la prima inizio a evidenziare cioè nel senso io ho provato a leggere prima tutto quanto il paragrafo e poi evidenziare ma ci metto troppo no basta specialmente quando ho tante pagine quindi diciamo evidenzio subito alla prima lettura e poi vedo le cose che la prof ha già detto e quindi che già sono nei miei appunti non le scrivo mentre le cose nuove le scrivo e così che ho tutto quanto completo sia il quadro del libro sia il quadro della prof e poi come ho detto per studiare non ho, cioè non studio nel senso aspetta sostanzialmente sì nel senso io faccio i miei schemi e poi basta che li leggo una barra due volte proprio massimo e poi niente già lo so perché appunto l'ho scritto io cioè nel senso scrivendo già mi ricordo le cose che ho cioè dopo che ho scritto mi ricordo le cose che ho scritto quindi non c'è bisogno di fare chissà che studio approfondito quindi ho una letta una volta e poi mi metto a ripeterlo camminando per la stanza perché io quando parlo devo camminare nulla raga io ho detto tutto credo ovviamente spegnerò la telecamera e mi ricorderò di qualcosa che avrei dovuto dire però questo è normale ehm nulla spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate tanti pollicioni in su iscrivetevi al canale e attivate le notifiche così che non vi perdete nessun video e inoltre arriviamo subito ai 30.000 perché sì questa è la prossima meta diciamo e nulla vi mando un bacione e noi ci vediamo tutti i lunedì mercoledì e venerdì con nuovi video qui sul canale ciao ciao